ciao ragazzi eccoci qua io sono cristiano mi trovate con cricollo trattino basso pt su instagram e oggi siamo ancora qui perché non mi vedete pedalare i nostri bolidi riposano qua dietro perché vogliamo parlare di qualcosa che abbiamo già affrontato nel nostro podcast a tra le altre cose se non seguite il podcast testa sul collo vi invito ad andare a seguirlo alfredo farà comparire il banner qui sul video quindi potrete andare a cercarlo abbiamo parlato di come strutturare un riscaldamento nella migliore maniera possibile oggi lo vedremo all'atto pratico andremo a fare un riscaldamento pre pedalata in bici ok quindi questo è il nostro obiettivo stiamo per andare a pedalare sulla nostra bike ma vogliamo scaldarci prima in maniera specifica e globale il primo obiettivo è la r raise your heart rate innalziamo la nostra frequenza cardiaca lo facciamo con un semplice esercizio iniziamo a andare a spostare il nostro peso da una parte all'altra sollevando il piede quindi lavoriamo già sulla mobilità delle nostre anche affinché saranno poi belle belle sciolte quando andremo a pedalare attività a bassa intensità e da qui via anche le ginocchia andiamo a piegare le gambe andiamo a lavorare con i muscoli delle gambe quelli che poi utilizzeremo pedalando e a aumentare ancora la nostra frequenza cardiaca ci mettiamo anche la parte superiore perché dobbiamo mobilizzare le spalle e cercare di essere il più sciolti possibili e quindi via chiudo apro chiudo apro ancora questa è una indicazione di riscaldamento come abbiamo già detto il riscaldamento dura tra gli 8 e i 10 minuti quindi vi facciamo vedere alcuni esercizi come strutturarlo da questa posizione poi vado a fermarmi con le gambe in questo senso camminata sul posto continuo la mobilizzazione della parte superiore con delle spinte in alto avanti e laterali in alto avanti e laterali ancora lo facciamo ancora una volta e poi marciamo veramente sul posto qui l'obiettivo sono sempre le anche sentite che il nostro fiato cresce perché abbiamo già aumentato un po la nostra frequenza cardiaca l'obiettivo è quello di portare il ginocchio sopra la linea delle anche per andare a lavorare il più possibile ok continuiamo dobbiamo come sviluppo della nostro ramp andare ad attivare i muscoli che utilizziamo pedalando prettamente i muscoli del treno inferiore quindi delle gambe come stiamo facendo adesso ma anche l'addome sappiamo essere importante allora torsioni andiamo a svegliare tutto il nostro core con delle torsioni portando il gomito al ginocchio opposto il braccio bene steso indietro quello che non lavora per continuare a lavorare sulle spalle a togliere un po di tensione dal tratto cervicale e sentiamo che l'addome inizia a lavorare le gambe sempre belle alte cerco di schiacciare come una molla tra gomito e ginocchio e adesso che sono un po più caldo mobilizzo da qui presso giù cerco di andare a mobilizzare con un po di stretching dinamico le mie articolazioni sempre a livello del cingolo pelvico in questo caso ma abbiamo bisogno anche delle articolazioni di caviglie perché è un punto di contatto e cosa di più semplice che stare su un piede solo apro e chiudo le braccia per creare un po più di squilibrio ma se il nostro equilibrio è molto buono porto ancora più su l'altra gamba e chiudo gli occhi e lavoro così con gli occhi chiusi vedete come la mia caviglia va da sola ad assecondare i movimenti e a farmi stare in equilibrio già da questo lato è più difficile perché con gli occhi chiusi io vado a creare più scompenso ok quindi dobbiamo cercare di lavorare al meglio sulle nostre caviglie esercizio proprio eccettivo che ci permette di mobilizzare la caviglia e di non pedalare con quella caviglia rigida a 90 gradi che poi dà problemi ci manca il ginocchio da mobilizzare vado giù in ginocchio questa posizione metto una mano e faccio la polenta ruoto spingendo bene sul ginocchio in tutte le direzioni un po' in un senso un po' nell'altro perché naturalmente non dobbiamo perdere nulla faccio partire tutto dall'anca che segue il ginocchio in avanti e ruota torna indietro distendo e vado ancora quindi lavoro al meglio cambiamo lato la stessa cosa bene partenza a 90 gradi bene in asse e poi facciamo la polenta se abbiamo un peso come un kettlebell magari non troppo eccessivo posso usare quello appoggiato sulla mia gamba per aumentare l'incidenza di questo esercizio sui miei muscoli ok siamo praticamente un po' più sciolti di prima ma non ancora allora andiamo a riscoprire riscovare il nostro modo di muoverci già che siamo a terra andiamo a fare un po' di burl crow camminata dell'orso da questa posizione in quadrupedia senza le ginocchia appoggiate cammino avanti e indietro ancora avanti e indietro sentite che qua è tutto il corpo a lavorare dalle anche i muscoli delle gambe il nostro addome le braccia la schiena ci mantengono in equilibrio torno in posizione e vado lateralmente ancora movimenti di torsione controllati addome contratto molto bene espiro tutte le volte che faccio fatica l'ultima volta da qui giriamo ci mettiamo pancia verso l'alto concludiamo per le nostre anche perché da qui andiamo a prendere i biscotti nel ripiano in alto voglio allungare il più possibile posso decidere o di riappoggiare i glutei a terra ad ogni ripetizione oppure di restare sollevato e quindi aumentare un po' il dispendio molto bene abbiamo quasi finito il nostro riscaldamento a secco possiamo decidere di completare l'ultima parte quella dell'attivazione neuromuscolare o sulla bike quindi con qualche minuto di pedalata blanda e poi dei micro sprint oppure farlo qua ancora a secco lavorando sulla nostra rapidità neuromuscolare con un semplicissimo esercizio come lo skip dove andremo a intervallare momenti ad alta intensità ad altri un po' più blandi cercate di sentire sempre il vostro core che lavora il vostro addome e così possiamo fare 6 7 micro sprint del genere dopodiché ci spostiamo sulla bike questo è un allenamento mirato a prepararci a una pedalata faremo comunque il riscaldamento sulla bike non pensate di poter salire e pedalare liberamente questo è il riscaldamento generale ci serve quella parte specifica della bike dopodiché il nostro allenamento partirà nel migliore dei modi se avete dubbi domande su come eseguire al meglio questo riscaldamento fatele oscerlo sapere nei commenti vi invitiamo come sempre a iscrivervi cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video lasciare un mi piace per sostenerci e noi ci vediamo alla prossima puntata buona giornata buona giornata Grazie a tutti.